Non è una campagna elettorale serena quella Sant'Angelo di Brolo. Tra lettere anonime e comizi infuocati, lo scontro politico ha ormai travalicato i limiti facendo registrare anche una serie di danneggiamenti sui quali indagano adesso i carabinieri. L'ultimo episodio si è verificato tra sabato e domenica, quando i gnoti hanno squarciato con un punteruolo tutte e quattro le gomme della Renoclio di proprietà di Franco Cortolillo, candidato a sindaco, ma in uso al figlio Giorgio. La vettura era parcheggiata in un luogo isolato in località a Sant'Antonino, in quanto il giovane era sceso con amici a Brolo e dal ritorno ha scoperto il danneggiamento. Nelle scorse settimane invece i gnoti avevano tagliato le gomme dell'auto di proprietà di Nino Bonina, presidente del consiglio comunale uscente. Il mezzo era posteggiato sotto l'abitazione dell'uomo. In precedenza, un episodio simile si era verificato sempre a Sant'Angelo. In quell'occasione, ad essere presa di mira, era stata l'auto del coordinatore locale del coordinamento giovanile di Forza Italia, Enzo Siragusano. In questo clima comunque vanno avanti comizie e iniziative politiche, cercando di riportare il dibattito nei binari della correttezza. Stasera alle 21.25 i due candidati a sindaco, Franco Cortolillo e Tindaro Germanelli, saranno ospiti di Antenna del Mediterraneo per illustrare programmi e strategie.